Ok, ci siamo! Puoi smettere di chiedere se siamo arrivati! Finalmente! Sai volare anche più lentamente? Conserva questo atteggiamento, Drose, lo farò! Buona fortuna, squadra! Ok, piloti, il mietitore è in funzione. Difendetelo dalla flotta Remnant e mantenete sicura l'area. Preso! E vai! Eh, certo! Rilevo traccia del nemico in arrivo. Non sono in tanti, ma non montatevi la testa. Attenzi! Unità flotta Remnant in arrivo! Tenete gli occhi sulla minimappa. Ci punteremo le zone di atterraggio nemiche. Puntare? Li puntiamo? Ok, marcare. Li marcheremo. Contento, Davis? Di che marca? Droni di occultamento nella vostra area. Odio queste cose. Possono nascondere un Titan. Gli scudi si abbassano! Gli scudi! Perfetto! Gli scudi! Gli scudi! Gli scudi si abbassano! Squadra, proteggete il mietitore mentre lo scudo si ricarica. Ascoltate, squadra. Gli scudi mietitore sono sotto attacco. Dateci un taglio. Scudi mietitore di nuovo al cento per cento. Arriba! A presto! Ragazzi, lo scudo mietitore si sta ricaricando. Fateci un favore, proteggetelo. Gli scudi si abbassano. Sparate ancora! Mi noto il nemico in vista, all'ist... Scudo mietitore è riattivato. Scudi mietitore è di nuovo al 100%. Lo scudo mietitore è sotto attacco. Proteggetelo. Abbiamo dei piloti in zona! Spectre mortaio colpiscono il mietitore. Dovete contrattaccare! Contrattaccate! Gli scudi mietitori non possono subire altri danni. Proteggetelo! Ragazzi, abbiamo appena perso un pilota. Dovete stare più attenti. Gli scudi mietitore stanno per cedere. Proteggeteli. Tornano in azione dei piloti alleati. Ora! Inquadra, proteggete il mietitore mentre lo scudo si ricarica. Inquadra, spacciate! Ottime notizie. Gli scudi mietitore sono di nuovo attivi. Completiamo la missione. Gli scudi si abbassano. Lavoro eccezionale. Non credi, Davis? Davis? È rimasto senza parole. Quando sei pronto, preparati per Titanfall. Posso fare meglio di così? Preparati per Titanfall! Ottimo lavoro. Ecco dei crediti. Usali per costruire alcune difese. Cerca di essere un po' più duro. Appetitazione. Vectre mortaio rilevati. Dovrete salire sui tetti per eliminarli. Comandi pilota avviati. Concento. Pianifica. Attacca. Piloti, è in arrivo un'altra ondata. Nuovo giorno, nuova ondata. Andiamo! No. Ascoltate squadra, gli scudi mietitori sono sotto attacco, date sul taglio. Elimidate quei dati! Il scudi mietitore è riattivato. Il scudi mietitore si sta ricaricando, fateci un favore, proteggetelo. Avvistate i droni di occultamento, eliminateli così potete vedere cosa combattete. Lo scudo mietitore è sotto attacco, proteggetelo! L'extra e mortaio puntano il mietitore. Eliminatemi per me! Entra il nemico distrutto. Scudi mietitore di nuovo al 100%. Piloti, pulite l'area, così il mietitore può ricaricare. La notte dell'area è stata ricaricare. No, subito! È un altro limite. La notte dell'area è stata ricarica. Il rumore è stata ricarica. Il mietitore è stata ricarica! Il mio editore non è stato toccato, bel lavoro Bel lavoro, dai Drone, è stato un ottimo lavoro Sembra che stiano inviando bestie volanti, sono veloci Un'altra odata, prendiamoli Un'altra odata, prendiamolo Un'altra odata, prendiamolo Vedo Titan mortaio in arrivo, tenetevi pronti Un'altra odata, prendiamolo 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 La vostra torretta è offline. Squadra, proteggete il meditore mentre lo scudo si ricarica. La vostra torretta è di nuovo attiva. I sistemi sono tuoi. Insieme siamo più in fuoco. Dait anatomici nella vostra direzione, squadra. Eliminateli. La vostra torretta è di nuovo attiva. 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 Non potete fare meglio di così. Davvero? L'editore non ha subito alcun danno. Lavoro fantastico. Taitan nemici in arrivo. Preparatevi. Penso siano pronti, Droz. Giusto, team? Sì! La spada è tua, pilota. I comandi sono tuoi, pilota. Squadra, c'è un'altra ondata in arrivo. Preparatevi a ricambiare il saluto. Può ucciderli. Vedremo cosa succede. Scudi mietitore di nuovo al 100%. Sembra che la tua torretta sia a terra, vai lì e riparala Lo scudo mietitore è sotto attacco, proteggetelo Lo scudo mietitore stanno per cedere, proteggeteli La torretta è di nuovo attiva Ragazzi, lo scudo mietitore si sta ricaricando, fateci un favore, proteggetelo Gli scudi mietitore sono di nuovo attivi Troni di occultamento nella vostra area Gli scudi si abbassano, eliminate qualsiasi cosa lo stia danneggiando Gli scudi si abbassano, proteggetelo Mietitore è riattivato 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 Hai rimanato Mietitore è riattivato Prendiamo il importiamo Mietitore è riattivato Il mio titolo non è stato toccato. Bel lavoro. Bel lavoro? Dai, Dross. È stato un ottimo lavoro. Attenti. Titan Arc e Titan Mortaio in arrivo. Li rispediremo da dove sono venuti. Spada Roni, trasferite al pilota. Contata finale, piloti. Resistete. Spada Roni, tieni vicini i nemici. Spada Roni, trasferite al pilota. 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 Titan demico a terra. Titan demico a terra. Soltate squadra, gli scudi di editori sono sotto attacco, datoci un taglio. Gli scudi di editori sono di nuovo attivi. Titan demico a terra. C'erano il bledetto corpista, Miledetto c'era il supporto. Tornate la fonte. Titan demico a ferro. B snake. poxy regulations assisti. Solti un pulsamento nella altra area! Odio queste cose! C которую 역-iterrar. Titan demico a terra. Il Mietitore è sotto attacco, proteggetelo! Attenzione! Il Dice a portai ottenete dal nostro Mietitore! Ci sono stabiliti in periferia, scovateli! A loro torrete offline in periferia! Il Dice a portare è riattivato! Attenzione! I Dice a portai ottenete sul superiore di luce! Attenzione! Dammi sui piloti! Svi c別vi! Svi c'è fuori! Svi c'è fuori! Svi c'è fuori! Svi c'è fuori! Il Dice a portai ottenete! Allora, immagino la pellicazione! Svi c'è fuori! Adesso la pellicazione! Svi c'è fuori! Svi c'è fuori! PYTAN NEMICO DISTRUTTO RINFORZE IN ARRIVO, SQUADRA RONCO DISTRUTTO Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non perdere di vista gli osti. Falta al nemico. Falta al nemico eliminato. Falta al nemico eliminato. Falta al nemico eliminato. Falta al nemico eliminato. Falta al nemico distrutto. Falta al nemico distrutto. Falta al nemico distrutto. Vittoria! Bel lavoro! Avete fatto colpo su Dennis? Vittoria! 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 Vittoria!